Buongiorno Assessore, siamo qui in questo consenso riguardo all'alcol e viene una domanda specialmente sugli aspetti delle politiche giovanili. Prima in sala è stato detto questi giovani devono essere più responsabili e responsabilità delle famiglie. Ma sono solo questi due attori che ci ritroviamo nella comunità che si devono regolamentare. Qui leggo ad esempio Petizionello, i coppi dipendenti si schierano contro la vendita dei minori. Sappiamo che la coppa ha messo il divieto a 18 anni. Il discorso è unicamente causa di questo problema dell'alcol, la irresponsabilità dei giovani, la scarsa affidabilità delle famiglie? Non credo proprio che sia responsabilità dei giovani o scarsa affidabilità delle famiglie. Siamo in un sistema di mercato dove i sistemi di controllo sono non sempre commisurati a quelli che poi sono i risultati finali, per cui intervenire sulle fonti di produzione sarebbe sicuramente importante per regolamentare determinati aspetti, ma anche sui criteri della commercializzazione e soprattutto sulla costruzione di consapevolezze sociali. Io credo che le istituzioni siano strategiche in questo senso, a condizione però che si alleino e che dialoghino con i diretti interessati, perché un percorso calato dall'alto non può avere senso. Quindi noi dobbiamo costruire una partecipazione dal basso seria, consapevole, dove siamo sullo stesso piano, istituzioni e persone coinvolte, in modo da costruire dei percorsi credibili e condivisi soprattutto. Cioè trovare delle strategie per cui anche giuridicamente chi vende possa in qualche modo essere ridimensionato se l'effetto di questa vendita è un effetto socialmente dannoso, ma non per fare del proibizionismo, ma per costruire una gestibilità sociale e quindi una migliore qualità della vita per tutti sostanzialmente. Parlando di sistemi di controllo, lei pensa come assessore di Pisa che il divieto di distribuire bevande alcoliche dopo un determinato orario possa veramente diminuire l'utilizzo di queste sostanze, che sia quindi un sistema di controllo ben pensato, che veramente il fenomeno dell'alcolismo a Pisa è ridotto grazie a questa politica o no? Guardi, io non ho una ricetta assolutamente, non sarei all'altezza di proporla, però sento il bisogno di parlare un po' con tutti, quindi i ragazzi da una parte, i soggetti gestori, chi li lascia le licenze, le autorità sanitarie, le autorità di pubblica sicurezza, il mondo associativo che è esperienza e quindi tutti insieme trovare delle strade che siano compatibili e che non trasformino la città in una gabbia, ma nello stesso tempo in un luogo piacevole da vivere. Questo dovrebbe essere l'obiettivo, dialogare soprattutto e costruire il terreno per un dialogo proficuo. Una domanda, in diversi comuni, negli anni sono state costituite queste carte etiche, a me è capitato spesso di essere chiamato carte etiche con i commercianti, eccetera. Ai tavoli queste carte vengono sempre firmate e sottoscritte, poi dopo si va nella pratica e non vengono applicate. Allora, forse, mi domando, i comuni dovrebbero vigilare di più, fare dei controlli e stabilire anche delle normative di sanzione laddove non vengano rispettati, perché ormai abbiamo visto che queste carte etiche rimangono delle belle parole, vanno sui giornali, pubblicità, poi nel pratico sembra che i risultati non ci siano. Io credo che questo è un problema piuttosto ampio. Il Comune di Pisa si sta impegnando su questo terreno, però i risultati arrivano soltanto se abbiamo un percorso serio, condiviso, anche con chi è preposto ai controlli. E quindi le strategie dei controlli devono essere strategie lungimiranti. E sicuramente anche la formazione, come giustamente lei dice, ha un ruolo fondamentale, perché l'approccio anche con i soggetti che sono oggetto dell'intervento è fondamentale, per evitare anche quella frattura sociale pesante che fa vedere l'ente locale come il guardiano di turno. Ma l'ente locale è quello che garantisce il benessere a tutti i cittadini. E quindi secondo me l'ente locale nel momento in cui controlla e pianifica una strategia deve condividere le ragioni del controllo, perché chi trasgredisce diventi più consapevole, anche dal punto di vista dell'etica commerciale, perché non si può vivere solo per il profitto alle spalle degli altri. E questo è il principio che va affermato in tutte le maniere. La ringraziamo.